fare video tutto quello che vi serve sapere a partire dall'attrezzatura arrivando fino al software cioè partiamo da quello che usiamo fisicamente per registrare video quindi le fotocamere le webcam ma anche i microfoni perché l'audio non va sottovalutato all'interno dei nostri video che è anche più importante del video vero e proprio e diamo un'occhiata anche alle luci per avere un'illuminazione sia in studio che fuori dallo studio ottimale beh a questo proposito vi spiego come utilizzare le varie i vari strumenti in base all'utilizzo che ne dovete fare perché una cosa è devo fare un video in studio una cosa devo fare un video in esterna diverso è fare un video studio o fare un blog e allora proviamo a capire quali sono gli strumenti più utili sia per uno che per l'altro caso vi faccio tra l'altro anche fare un giro nel mio studio quello che state vedendo adesso prendiamo proprio la webcam e vediamo come è composto quali sono gli strumenti che utilizzo io per registrare i video che voi vedete tutti i giorni come quello che state vedendo in questo momento poi diamo un'occhiata anche i programmi quindi il lato software cosa possiamo usare per registrare i video cosa possiamo usare per montare i video e anche qualche alternativa per esempio come montare i video sul telefono di tutto questo non vi preoccupate perché trovate i marcatori di capitolo voi dite mi interessano soltanto i programmi andate a guardare i programmi mi interessa soltanto l'hardware magari solo i microfoni andate a guardare i microfoni guardate soltanto la parte che vi interessa se viene interessa una parte specifica se lo volete 360 gradi eccovi il video completo se volete migliorare la vostra comunicazione digitale vi aspetto su ciraulo.me dove trovate altra roba le risorse gratuiti corsi i coaching le consulenze e tutto il resto delle cose che faccio che sono un pochino riassunte all'interno del sito web e a me non resta che augurarvi buona visione partendo dall'attrezzatura e quindi dagli strumenti per registrare video beh la prima possibilità ce l'abbiamo già in tasca vi sto parlando del vostro telefono dello smartphone che nella stragrande maggioranza dei casi è più che sufficiente per fare dei video di buonissima qualità sia dal punto di vista video quindi della qualità dell'immagine che dal punto di vista audio quindi della qualità del microfono molte volte diciamoci la verità l'acquisto di un hardware costoso e non solo costoso ma anche complicato da utilizzare è una scusa è una scusa per rimandare il momento in cui effettivamente cominciamo a fare video oppure e questo lo so perché io a volte ne sono vittima come molti content creator purtroppo diventa un semplice puro consumismo una piacere nell'avere magari una fotocamera di ultimo modello un microfono l'ultimo grido ma che in realtà soprattutto se siamo agli inizi di un progetto non fanno davvero così tanto la differenza il telefono va benissimo e va benissimo quanto meno per cominciare poi abbiamo sempre tempo per ampliare l'hardware del nostro progetto man mano che il progetto stesso evolve ma iniziamo leggeri iniziamo con poco anche perché cosa qui molte persone non pensano fa sorridere perché la qualità di un video registrato nativamente con un telefono di buona qualità è di gran lunga superiore a quella che possiamo registrare con una fotocamera di alta qualità ma che non sappiamo utilizzare se non sappiamo dove mettere le mani se non sappiamo come impostarla magari abbiamo un pezzo di hardware da diverse migliaia di euro che però non stiamo sfruttando al meglio all'inizio probabilmente dipende dal progetto naturalmente sia chiaro però probabilmente conviene partire leggeri partire leggere e poi ampliare piano piano gli strumenti che abbiamo a disposizione eventualmente in alcuni casi soprattutto se non abbiamo un telefono di altissima qualità potremmo valutare l'acquisto di un microfono esterno perché ormai le fotocamere dei telefoni vanno tutte bene per registrare dei buoni video difficile trovarne una anche nei telefoni da pochi euro che non funzioni se mai dovremmo giocare un pochino con l'illuminazione nei telefoni di fascia un pochino più bassa beh il punto debole potrebbe essere il telefono in quel caso magari valutiamo l'acquisto di un microfono esterno poi vediamo meglio i microfoni quando ne parliamo più avanti nel video nel caso cliccate sui marcatori di capitolo se abbiamo invece un telefono di fascia alta io suggerisco addirittura di non prendere il microfono esterno perché nella maggior parte dei casi il microfono integrato del telefono è migliore di un microfono ulteriore che possiamo appiccicarci a meno che magari non abbiamo delle esigenze specifiche per esempio potremmo avere bisogno di un lavalier di quelli da attaccare alla camicia li vediamo poi nel capitolo sui microfoni magari senza fili allora in quel caso a maggior ragione vale la pena investire in un microfono piuttosto che in una fotocamera e attaccarlo direttamente al telefono l'ultima cosa che vi segnalo sul telefono e ve lo dico veramente vengo in pace alzo la bandiera bianca vengo con le mani alzate lo dico in maniera agnostica e ve lo dice uno che adora windows che ha acquistato un mac era dovuto rivendere tanto ci si trovava male beh detto questo se parliamo di telefoni per fare video quindi per l'utilizzo media mettiamola così beh mediamente generalizzando un po non me ne abbiano i fanboy e gli hater che lo so che poi vi scatenate nei commenti beh credo che iphone sia un pochino meglio di android non tanto per la qualità della fotocamera che pure una qualità elevatissima ma più per la solidità dell'ecosistema delle applicazioni la varietà di applicazioni a disposizione la solidità e la stabilità delle applicazioni stesse su un dispositivo come come un iphone beh io credo che sia superiore rispetto al mondo android vi dico li ho provati entrambi e generalizzando immediatamente se adesso non avete un telefono avete un telefono molto scarso e dite va bene io come primo investimento per fare video voglio comprarmi un telefono allora io vi dico la verità io con ogni probabilità partirei dall'iphone che poi è la scelta che io stesso in questo momento ho fatto e ve lo dico davvero senza avere nessuna preferenza ma valutando caso per caso questo è l'inizio questo è il minimo della pena che però non è tanto minimo della pena perché più che sufficiente per realizzare dei buoni video di qualità ma adesso andiamo a vedere da un punto di vista video che cosa ancora possiamo fare se vogliamo fare un piccolo step ulteriore passando quindi al comparto video beh una differenza enorme data dall'utilizzo che dovete fare dello strumento queste cose qua credo che sia logica perché una questione è fare video in studio per esempio con un computer o con un'illuminazione particolare controllata un'altra cosa è fare vlog in esterna e in diverse condizioni magari anche atmosferiche per cui in base all'utilizzo sceglieremo degli strumenti differenti adesso io provo a farvi una carrellata di quali sono tendenzialmente tutti gli strumenti che possiamo scegliere e quali sono gli utilizzi per cui sono pensati quelli migliori rispetto ad ognuno di questi strumenti a partire da una buona webcam beh la prima scelta se vogliamo realizzare video in studio magari anche in live streaming potrebbe essere munirci di una webcam più o meno di qualità in realtà già da poche decine di euro possiamo ottenere un ottimo risultato se abbiamo l'illuminazione giusta e se utilizziamo un minimo di correzione software ma se vogliamo fare un investimento allora una webcam di un certo livello potrebbe essere la scelta migliore nel momento in cui registro il video per esempio il gato ha un'ottima webcam che si chiama facecam ma anche logitech fa delle ottime webcam che tendenzialmente sono molto apprezzate per esempio la logitech stream cam è molto utilizzata per questo genere di cose trovate comunque delle webcam anche molto più economiche su amazon addirittura se prendete queste stesse webcam che vi ho mostrato usate su amazon potete risparmiare molti euro mi raccomando guardate la descrizione per gli aggiornamenti perché poi magari voi vedete questo video diversi mesi dopo che è stato pubblicato e una certa webcam non ha più senso di essere acquistata e magari conviene acquistare un'altra vedete tutto linkato nella descrizione nel video io tenderò a non soffermarmi troppo sul singolo hardware perché potrebbe essere fuorviante se non il video visto che la tecnologia corre molto velocemente rischia di diventare obsoleto molto presto quindi prima possibilità acquistare una buona webcam o fare un buon investimento di un centinaio 200 euro per una webcam top oppure comunque già da 30 50 euro magari usata su amazon mi porto a casa comunque una webcam di buonissima qualità un'altra possibilità potrebbe essere quella di utilizzare lo smartphone come webcam collegandolo al computer ancora una volta siamo naturalmente nel mondo live streaming barra registrazione in studio posso collegare il telefono e utilizzarlo come webcam o con degli strumenti di tipo software per esempio c'è un mio video ormai di un paio di anni fa un anno fa circa dove spiegavo come farlo con uno strumento che si chiama ivicam ma è anche con epoch cam se non ricordo male in questo stesso video eccolo qua ve lo faccio vedere grazie al supporto del prof digitale che ci aveva spiegato come fare ma trovate decine di software che permettono di fare la stessa cosa vi basta una semplice ricerca su google addirittura se siete nel mondo apple potete utilizzare continuity che vi permette di fare questa cosa qua in maniera molto efficace nativamente utilizzando l'iphone e il mac naturalmente questa cosa qua non potete farla né la webcam né il telefono come webcam se intendete registrare un de go se intendete registrare all'esterno qui torna il suggerimento primario che quello di utilizzare il vostro telefono magari con un telefono di buona qualità diversamente potete acquistare una fotocamera in questo caso direi che le grandi macro categorie semplificando di molto sono due o vi buttate su una action cam probabilmente oggi la marca più famosa è gopro premetto che io non sono un grande fanatico di hardware di fotocamere per cui magari per poi trovare esattamente il modello che fa per voi magari seguite i tanti creator che si occupano un po più specificamente di questa cosa perché io potrei non essere aggiornatissimo però insomma per quello che è un utilizzo molto generico medio sicuramente il mondo gopro è decisamente all'avanguardia nell'ambito action cam trovate certo dell'action cam anche molto più economiche delle gopro che già vi permettono di ottenere dei livelli molto elevati non vi preoccupate l'altra alternativa potrebbe essere una fotocamera mirrorless anche in questo caso trovate tantissime alternative canon nikon panasonic e chi più ne ha più ne metta diciamo che tra le fotocamere che vedo più utilizzate per questo scopo ci sono sicuramente quelle sony ad esempio il modello z vie 10 è proprio adatto ai vlog è proprio pensato per chi fa vlog oppure anche tutte le fotocamere della serie alfa ad esempio la fotocamera alfa 6100 un'altra fotocamera relativamente economica perché vi costa un migliaio di euro che però è molto molto interessante in questo momento io per esempio sto utilizzando una alfa 5100 per registrarmi che non è più in vendita dovreste cercarla usata ancora se ne trova qualcuno usata la portate via di per pochi euro secondo me davvero ne vale la pena perché massimo full hd non ha il 4k diciamo che non ha l'attacco per il microfono esterno cioè proprio una fotocamera che un pochino ci si deve accontentare ma se non si hanno determinate esigenze è più che sufficiente sia questa che quella togliamo il riquadro sia questa che quella sono due alfa 5100 che insomma non mi hanno assolutamente mai deluso quindi la scelta potrebbe essere quella di una fotocamera se optate per una fotocamera a meno che non siate sicuri e sicure di voler fare vlog e soltanto vlog beh che sia un action cam o che sia una mirrorless assicuratevi che sia già predisposta per un attacco hdmi clean che l'ultima modalità che vedremo adesso di registrazione che vi permette di collegare la fotocamera ad una scheda di acquisizione che cosa vuol dire vuol dire che esattamente quello che sto facendo io in questo momento voi potete collegare la vostra fotocamera tramite l'uscita hdmi della fotocamera a un ingresso usb che è attaccata al vostro computer questo è il funzionamento della scheda di acquisizione un affare come questo riuscite a vederlo vediamo se trovo un modo per farvelo vedere meglio forse qua si vede un pochino meglio quindi da un lato avete un ingresso hdmi dall'altro avete un uscita usb che infilate nel vostro computer e voi uscite dalla fotocamera con l'hdmi ed entrate direttamente nel computer è quello che sto facendo io adesso in questa maniera voi riuscite a utilizzare una fotocamera mirrorless oppure un action cam che sia compatibile mi raccomando come se fosse una webcam del computer è comodo perché registrate direttamente dal computer nel mio caso che un setting proprio da studio quindi io non esco mai da questa maledetta stanza da queste quattro mura bene il mio caso è molto comodo perché registro direttamente sul computer e non ho tutto lo sbatti di tirare fuori la scheda caricare sul computer mettere nel software di acquisizione dire di montaggio eccetera eccetera ma faccio tutto in un colpo solo naturalmente questa cosa qua è indispensabile se volete usare delle fotocamere per fare il live streaming perché dovete farlo direttamente col computer per cui un'altra possibilità potrebbe essere questa in questo caso avete la possibilità di prendere una cam link 4k sempre di marca elgato piuttosto costosa ce ne sono decisamente di più economiche che trovate su amazon che comunque vi portate a casa il vostro lavoro diciamo che questa è nota per essere una scheda di acquisizione di qualità piuttosto alta oppure addirittura potete utilizzare un cam link pro che è la soluzione che utilizzo io se avete un computer fisso non potete utilizzarlo se avete un portatile è proprio una scheda vera e propria che ha quattro ingressi hdmi per cosa la utilizzo io questa questa scheda la utilizzo per questa fotocamera frontale per la fotocamera laterale e gli altri due li utilizzo poi per l'ingresso di un eventuale pc portatile e per mostrare lo smartphone sul nella registrazione quindi io esco con lo smartphone ho un adattatore che ve lo faccio vedere aspettate che lo prendo questo a fare qua vediamo se riesco a farvelo vedere forse lo vedete meglio da qua questo a fare qua praticamente ha un adattatore per il per l'iphone adesso un po sfocato pazienza e poi ha un uscita hdmi che entra direttamente dentro la scheda di acquisizione e in questa maniera riuscite riesco a registrare anche lo schermo dello dello smartphone oppure ulteriore metodo bonus a usare lo smartphone come webcam con il cavo e quindi non al lato software in realtà si può mostrare lo smartphone nel computer anche con altri metodi trovate anche i miei video per farlo è però io già che ho molte fotocamere ho voluto prendere una scheda con quattro ingressi così da averli a disposizione per utilizzare i due cam link o qualsiasi altra scheda di acquisizione mi raccomando assicuratevi che la vostra fotocamera sia compatibile per esempio potete farlo con l'elgato camera check anche se vi interessa una una scheda di acquisizione di un'altra marca comunque questo strumento è molto molto comodo perché vale per qualsiasi scheda di acquisizione e ha un buon elenco di fotocamere vedete voi vi dovete solo assicurare che la vostra fotocamera abbia un bel pallino verde e in questa maniera voi siete sicuri e sicure che la fotocamera funziona controllate le specifiche perché per esempio in questo caso sony alfa 6100 vi dice va benissimo ma attenzione che vi serve una batteria fittizia per collegare la presa della corrente alla vostra fotocamera perché la fotocamera non si ricarica in questo caso tramite l'usb quindi fatemi raccomando tutte queste verifiche per essere per essere sicuri e sicure che funzioni quindi quali sono le possibilità che abbiamo abbiamo detto una semplice webcam collegata al computer se registriamo in studio oppure usiamo lo smartphone come webcam sempre se registriamo in studio o ancora utilizziamo un action cam se dobbiamo fare vlog o utilizziamo una fotocamera mirrorless se vogliamo registrare sempre in esterna e fare vlog oppure in studio ma senza avere la complicazione di collegare il computer o infine una scheda di acquisizione se vogliamo utilizzare le nostre fotocamere come se fossero delle webcam soprattutto se vogliamo fare live streaming magari con una qualità particolare una volta che abbiamo visto come funziona tutto il comparto video andiamo a vedere invece come realizzare degli audio di ottima qualità sì perché una delle prime cose che dobbiamo dirci parlando di audio è che l'audio è uno degli elementi più importanti quando si fanno video perché provate un po a ragionarci fruire di un video nel quale non si riesce a vedere tanto bene è molto meno fastidioso che fruire di un video nel quale non si capisce quello che sta dicendo una persona e allora avere a cuore e cercare di curare bene il proprio audio ci permette di ottenere dei video di qualità percepita decisamente più alta anche in questo caso la scelta del microfono da utilizzare dipende moltissimo dal tipo di progetto che abbiamo in mente e dal tipo di utilizzo che intendiamo farne e provo ancora una volta a farvi una panoramica di quali sono le possibilità tra cui potete scegliere ancora una volta cercando sì di darvi qualche suggerimento parlandovi proprio di marche specifiche ma mi raccomando non tenete tanto a mente le marche quanto le tipologie di microfono che avete a disposizione eventualmente per fare poi voi delle ricerche che possano funzionare per il vostro caso e allora andiamo a vedere la prima scelta che potrebbero essere quei microfoni che io definirei da podcasting che voi potete utilizzare anche in video ma che sono pensati per essere tenuti vicino alla bocca e anche per essere mostrati tendenzialmente all'interno di un video il più famoso probabilmente di questi è il microfono blu yeti che è un microfono che non eccelle in niente ma che va bene per qualsiasi situazione per cui se non sapete che cosa prendere col blu yeti cadete sempre in piedi è un microfono che potete utilizzare da vicino da lontano appoggiandolo alla scrivania in molti casi se lavorate bene con l'audio e avete anche una stanza un po trattata anche escludendolo dall'inquadratura perché lo tenete abbastanza lontano affinché non sia inquadrato dalla fotocamera ed è uno di quei microfoni che vedrete spessissimo sulle scrivanie dei creator e delle creator è un microfono usb che cosa vuol dire vuol dire che voi un microfono come questo lo collegate direttamente al computer attenzione non alla fotocamera ma direttamente al computer e in questo caso funziona direttamente senza nessuna senza nessun problema come potete vedere non è assolutamente un microfono portatile ma un microfono che dovete utilizzare in studio appoggiandolo a una scrivania con il suo supporto oppure collegandolo a un braccio che dovrete acquistare separatamente un'alternativa a microfoni tipo il blu yeti sempre rimanendo nel mondo dei dei microfoni diciamo così da studio di tipo podcast potrebbe essere un microfono di tipo dinamico come il pod mic senza entrare nel dettaglio di cosa significa dinamico sostanzialmente questi sono microfoni proprio da radio o da podcast quindi li dovete tenere molto vicini alla bocca e li dovete collegare tramite un cavo xlr ad una scheda audio necessariamente quindi attenzione perché questo non è un microfono usb che lo attaccate direttamente al computer ma dovete collegarlo a una scheda audio che a sua volta collegherete al computer questa cosa qua è molto importante da tenere presente trovate moltissimi microfoni dinamici per esempio un microfono che non mi ero preparato behringer xm non mi ricordo qualcosa 8100 mi pare eccolo qua per esempio questo andiamo a cercarlo su un sito magari più riconoscibile tipo su amazon eccolo qua questo microfono xm 8500 di behringer costa 15 euro all'incirca una volta che lo collegate con un cavo eccolo qua guardate in questo momento è a 22 euro nel momento in cui registro ma lo trovate spesso anche a molto meno una volta che voi collegate questo microfono ad un cavo e una scheda audio avete assolutamente un ottimo risultato io ce l'ho ne ho quattro se non ricordo male e li utilizzo in tante circostanze e mi ci trovo assolutamente benissimo quindi eventualmente valutato un microfono di tipo da podcast mi raccomando in questo caso vi dovete acquistare poi anche una scheda audio io vi suggerisco di acquistare una scheda audio usb diciamo che le due più note sono quelle di marca behringer per esempio questa euforia con un ingresso e quella che sto usando in questo momento vediamo se riesco a farvela vedere quella che trovate qua vediamo se la vedete è quella che uso nel nella registrazione di questo video oppure un'alternativa diciamo di maggiore qualità potrebbe essere quella scarlet solo di marca focus right molto molto buona anche questa una valutazione che sto facendo è di fare un piccolo investimento di passare a questa scheda audio solo per il gusto di dire ho una scheda audio di qualità superiore vi ricordate quando vi dicevo a volte diventa un puro consumismo proprio una roba che dice io lo voglio fare giusto per dire che l'ho fatto beh questo per me potrebbe essere uno di questi casi quindi prima possibilità microfono di tipo podcast seconda possibilità se vogliamo lavorare magari in esterna o anche in studio ma con un microfono che sia più versabile versatile chiedo scusa perché più mobile allora potremmo voler utilizzare un lavalier che sono quei microfoni che si attaccano alla camicia e che ci seguono ovunque andiamo molto comodo se siamo da soli se abbiamo la possibilità di averlo di tenerlo attaccato ai vestiti magari anche in esterna perché ci stiamo muovendo questo qua lo possiamo tranquillamente collegare al telefono allora in questo caso probabilmente un microfono lavalier è assolutamente un'ottima scelta li trovate per tutte le tasche per tutti i costi tra l'altro io dovrei averne uno qui a guardate io in questo momento ce l'ho collegato ad un archetto ve lo faccio vedere perché in questa maniera lo tengo più vicino alla bocca e riesco a controllare un pochino meglio il riverbero della stanza questa è sicuramente una scelta molto molto interessante sia che lo vogliate collegare al computer per registrare in studio o per fare live streaming sia che vogliate collegarlo alla vostra fotocamera mi raccomando assicuratevi che la connessione sia quella che desiderate perché una cosa è la connessione per il telefono una cosa è la connessione per la fotocamera dipende dal numero di come si chiama di linette di stanghette che hanno eccolo qua trs dovrebbe essere quello per il telefono vediamo se vediamo se lo troviamo uno adatto al telefono no probabilmente il lavalier go va bene per entrambi gli utilizzi sia uno che l'altro mi raccomando fate voi la una verifica adesso sto guardando in diretta mentre vi parlo vediamo se è indicato al massimo potreste aver bisogno in questo caso di un adattatore guardate vi faccio vedere eccolo qua di un adattatore tipo questo che vi passa guardate dal pin con due stanghette nere al pin con tre stanghette nere vediamo se riesco anche a metterlo a fuoco dovreste riuscire a vederlo adesso ecco qua questo è il concetto quindi seconda opzione lavalier eventualmente potete valutare un lavalier senza fili come il noto rodo wireless go in questo caso voi collegate il ricevitore al vostro telefono oppure alla vostra fotocamera e il trasmettitore ve lo attaccate come se fosse un normale lavalier direttamente la scatolina oppure a questo trasmettitore collegati il lavalier a sua volta vi faccio vedere anche in questo caso perché ce li ho qui vedete questo qua il road wireless go e da un lato questo qua lo collegate al telefono al computer o alla fotocamera mentre questo qua lo collegate lo attaccate direttamente alla camicia in questa maniera vedete o magari spostandolo verso l'interno così un pochino più discreto oppure vi faccio vedere avete anche l'ingresso per collegare il jack del vostro lavalier così da avere poi il lavalier che mettete sulla camicia e questo qua ve lo mettete in tasca quindi altra possibilità potrebbe essere il microfono lavalier wireless senza fili oppure un'altra possibilità che abbiamo sono i microfoni direzionali cosiddetti i microfoni shotgun questi qui sono dei microfoni che prendono il suono in una direzione molto specifica sono molto comodi per esempio da montare sopra la fotocamera se siete in studio per prendere l'audio nella vostra direzione mi raccomando in molti casi state attenti al microfono che prendete perché in base all'utilizzo che volete farne dovete scegliere un microfono diverso per esempio nel caso di road se prendete i microfoni shotgun sono microfoni pensati soprattutto da studio da utilizzare all'interno all'esterno sono un pochino grossi un pochino lunghi se volete utilizzarli in esterno dei microfoni direzionali vi conviene cercare microfoni on camera oppure microfoni mobile in questo caso potreste trovare microfoni come questo pensati soprattutto per il telefono cellulare sia per il jack che per l'attacco dell'iphone oppure microfoni come questo che vanno molto bene per l'utilizzo sulla fotocamera o come questo o come questo vedete in questo caso avete dei microfoni direzionali che vanno però molto bene nel caso in cui vogliate fare vlog quindi non siete in studio mi raccomando scegliete il microfono che si adatta meglio all'utilizzo che poi dovete farne un ultimo un'ultima tipologia di microfono che vi voglio selezionare che vi voglio indicare è il microfono tipo headset come quello che sto utilizzando in questo momento vedete che ha le cuffie direttamente collegate con un microfono questo è l'utilizzo migliore se avete se volete fare una registrazione in studio magari anche in live streaming ma non necessariamente e se volete avere l'audio più controllato possibile nel senso che il microfono è un microfono di buona qualità ed è sempre alla stessa distanza dalla vostra bocca molto vicino alla bocca io adoro questo tipo di microfono perché sapete che io mi muovo molto quando registro i video tendo a gesticolare tendo a dondolarmi sulla sedia tendo magari a girarmi da un lato e dall'altro con questo tipo di microfono la maggiore flessibilità possibile certo a un prezzo al prezzo che non deve darmi fastidio il fatto che si veda che io stia indossando l'headset prima che me lo chiediate perché me lo chiedete spessissimo nei commenti quello che utilizzo io in particolare questo senneiser hm 27 che come vedete costa uno sproposito io in questo caso ho voluto fare davvero un investimento cercando l'headset di migliore qualità possibile immaginabile al mondo a costo di spendere un sacco di soldi ma io registro molti video e davvero volevo togliermi la soddisfazione di avere la maggior qualità possibile immaginabile nel vostro caso anche una semplice cuffia da gaming potrebbe andare bene magari ne prendete una di buona qualità e nella maggior parte dei casi è più che sufficiente per un utilizzo medio che si può fare per un utilizzo medio che si può fare chiedo scusa quindi queste erano tutte le possibilità che abbiamo per la registrazione dell'audio adesso però andiamo a vedere anche come possiamo regolare e gestire bene l'illuminazione delle nostre registrazioni e sì perché non ci si pensa ma l'illuminazione è fondamentale quando facciamo video avere una buona illuminazione ci permette anche di risparmiare un sacco di soldi poi in tutta la parte di hardware video questo è quello che vedete nel mio studio ci sono in questo momento tre fonti di illuminazione e beh c'è una bella differenza tra la luce accesa e la luce spenta come vedete cambia cambia tutto letteralmente ma anche se spengo la luce secondaria vedete che l'effetto è molto differente e poi può piacere o può non piacere insomma potrebbero esserci anche una questione di gusti per certi versi però non c'è dubbio che l'illuminazione fa la differenza e allora quali sono le possibilità che abbiamo da un punto di vista dell'illuminazione prima di farvi vedere poi quello che utilizzo io concretamente in tutto questo nel mio studio beh prima di tutto abbiamo la possibilità dei pannelli led che forse è la opzione ormai più nota perché la più comoda è quella che occupa meno spazio ed è quella che funziona meglio i pannelli led di elgato per esempio sono molto molto buoni io ne sto utilizzando uno in questo momento sono anche estremamente costosi non è necessario spendere tutti questi soldi però diciamo che sono un po il benchmark se si vuole una qualità molto alta quindi pannelli led sono la prima possibilità oppure potremmo scegliere di utilizzare un soft box che sono queste specie di ombrelloni coperti da una specie di pellicola semitrasparente con una lampadina dentro mamma mia credo che i professionisti le professioniste qua si staranno gli starà venendo la pelle d'oca per come descrivo le cose in questo caso tra l'altro potremmo a fronte di una spesa molto inferiore rispetto a un pannello led di qualità avere un effetto addirittura migliore per certi versi diciamo che la grossa differenza tra il pannello led e il soft box generalizzando molto è che il soft box ci permette di avere una luce molto più diffusa e quindi anche più morbida nel risultato finale mentre il pannello led ha una luce un pochino più diretta naturalmente il pannello led è molto più facile da utilizzare perché è estremamente più piccolo rispetto all'ingombro di una luce di questo genere insomma qui abbiamo bisogno proprio di uno stativo di di una di una di un oggetto molto ingombrante insomma davvero è molto differente poi il risultato finale a livello di ingombro intendo oltre che di illuminazione altre possibilità che abbiamo sono se abbiamo bisogno di una luce in esterna di utilizzare dei piccoli pannelli led a batteria che possiamo o tenere in mano o far tenere in mano un collaboratore oppure montare sulla fotocamera con gli attacchi appositi quindi non date per scondato che siete in esterna dovete utilizzare esclusivamente la luce naturale potreste voler utilizzare una luce di questo tipo oppure molto molto utilizzati i ring light vediamo se riesco a farvi vedere meglio come funzionano forse qui eccolo qua sono questi affari qua all'interno dei quali si mette la fotocamera oppure il telefono che permettono di dare un'illuminazione molto diretta sul nostro volto e anche in questo caso ci permettono di ottenere un ottimo risultato con un ingombro relativamente minimo sia il pannello led che il pannello led portatile che il ring light li trovate anche non di marca il gato che è quello che adesso vi ho fatto vedere sempre a livello di qualità molto nota però se voi guardate su su amazon per dire ne trovate di tantissime marche una marca molto nota e molto economica e la marca new wear che è quella che utilizzo io qua è escluso il pannello il pannello principale cioè in questo momento io sono illuminato da un pannello del gato lo vediamo meglio tra poco e da un pannello new wear e da una lampadina new wear assolutamente mi ci trovo molto molto bene non ho dei grandi motivi per per passare ad altro insomma vanno molto bene per l'utilizzo che ne faccio io questa era l'illuminazione a questo punto abbiamo visto davvero tutto quello che ci serve di fondamentale per fare video e dai andiamo a farci un giro nel mio studio così vi faccio vedere esattamente che cosa utilizzo io in questo momento bene quindi ci siamo spostati sulla webcam così vi riesco a far fare un giro in tutto lo studio la prima cosa che però vi voglio segnalare è che trovate un video proprio dedicato al mio studio in realtà era nella stanza precedente in un'altra casa perché quello che voi vedete come mio studio è una stanza che io ritagliato in casa dedicata a questa cosa qua beh in questo video che vi linko poi nella descrizione trovate il una descrizione un pochino più dettagliata di quello che il mio studio di registrazione ad ogni modo facendoci un giro ecco che qui vedete più o meno quello che vedo io abbiamo il computer nella sua scatolotta lì in basso a destra poi abbiamo le due sony alfa 5100 di cui vi parlavo che sono una di fronte a me e una alla mia alla mia destra abbiamo l'illuminazione della quale vi ho parlato quindi abbiamo provo a farvelo vedere un pochino più da distante abbiamo vedete la elgato la luce elgato lì di fronte a me più o meno questo vedete il mio posto all'incirca si trova di fronte leggermente spostata verso destra poi abbiamo il pannello che si trova qui sulla sinistra e poi abbiamo la luce posteriore eccola qua vedete è una semplice lampadina vediamo se riesco a spegnerla così la vedete meglio ecco fatto una semplice lampadina normalissima attaccata su un un piccolo supporto oltre alle fotocamere all'illuminazione giusto come bonus vi segnalo che ho solitamente tre schermi o lo schermo grosso che quello che utilizzo poi anche per lavorare o lo schermo portatile uno schermo usbc ve ne parlo meglio all'interno del video che utilizzo per mostrare lo schermo e poi ho un piccolo schermo vedete che utilizzo per tenermi alcuni appunti da leggere durante i video per per non perdere il filo del discorso insomma tenere quel piccolo monitor sopra la fotocamera mi aiuta a leggere guardando più o meno in direzione della fotocamera in modo che si noti un po meno il fatto che io sto leggendo gli appunti questa è la scheda behringer di cui vi ho parlato è una scheda usb come vedete e poi la collego eccomi qua all'headset di cui altrettanto vi ho già parlato adesso non lo tolgo se no voi non sentireste più bene l'altra cosa che vi segnalo è che per cambiare le varie inquadrature utilizzo lo stream deck di elgato insomma una cosa altrettanto di cui vi ho già parlato e che più o meno conoscete se mi seguite questo è il mio studio e direi che con lo studio eccoci qua direi che con lo studio abbiamo terminato tutta la parte di hardware e di attrezzatura adesso siamo pronti siamo pronte per andare a vedere invece tutta la parte software e una volta vista qual è l'attrezzatura che ci serve per fare video quindi l'hardware andiamo a vedere il software quindi le applicazioni che possiamo utilizzare per prima di tutto registrare i video dopo per montarli e infine anche per montarli sullo smartphone sul telefono comunque ancora una volta trovate tutti i marcatori di capitolo nella descrizione se vi interessa un aspetto specifico e allora per quanto riguarda la registrazione di video la vedete già intorno a me beh se registrate col computer potete tranquillamente utilizzare l'applicazione fotocamera sia quella di windows come nel caso che state guardando in questo momento che quella di mac os quindi quella del mac di apple funzionano benissimo per la maggior parte degli utilizzi e non avete bisogno di pensare chissà quale altro strumento se avete delle necessità di base utilizzate questi strumenti sono già integrati e poi magari ancora una volta come ne come lo abbiamo detto per l'hardware vale anche per il software beh l'appetito vi è mangiando e piano piano andiamo ad aumentare a migliorare gli strumenti che utilizziamo e anche perfezionarli se siete già però in quella fase quindi se la fotocamera del vostro computer non è sufficiente allora potete valutare di utilizzare obs studio che è una software che si usa per registrare video ma anche per andare in diretta per fare live streaming insomma sul mio canale trovate molti video a riguardo che funziona molto bene tra l'altro obs studio è lo strumento che sto usando in questa in questo momento per registrare questo video mi permette di cambiare le inquadrature di passare da un'inquadratura frontale una laterale di farmi vedere lo schermo insomma è un strumento davvero molto molto efficace e probabilmente è il più potente che avete a disposizione peraltro è anche gratuito se volete registrare video in alternativa potete valutare io adesso vi segnalo filmora 11 ma soltanto perché ho già il tutorial lo trovate sul mio canale ma una gran parte degli strumenti per montare video perché filmore è un software di montaggio beh vi permettono anche di registrare i video stessi e questo ne è soltanto un esempio quindi magari se avete già un software di montaggio video beh controllate prima se non vi consente già di effettuare anche la registrazione perché molto probabilmente sarà già così nel caso di filmora per esempio questa cosa qua è possibile sia registrare la fotocamera se non vado errato vado a memoria ma anche lo schermo del computer un'altra alternativa se volete fare tutorial potrebbe essere camtasia studio sia filmora che camtasia sono due software a pagamento filmora è molto economico camtasia è piuttosto costosetto ma se volete fare tutorial camtasia vi mette insieme un software che vi permette sia di registrare il video e lo schermo quindi fotocamera e schermo ma anche poi di fare il montaggio nello tutto all'interno dello stesso software tra l'altro vi registra anche separatamente sia il video della fotocamera che quello dello schermo così che poi possiate alternarli se lo desiderate se fate tutorial probabilmente camtasia un'ottima scelta sia per registrare che poi per fare anche il montaggio effettivamente per quanto riguarda il telefono beh vale la stessa cosa cioè anche col telefono va benissimo la fotocamera integrata del vostro telefono il software della fotocamera integrato quello di default va più che bene per la stragrandissima maggioranza dei casi quindi vi prendete il vostro telefono premete rec e va più che bene se volete un software un pochino più professionale beh allora potete valutare l'acquisto non costa molto solo qualche euro di filmic pro che è uno strumento lo trovate sia disponibile per per iphone che per android che è uno strumento che si sostituisce all'applicazione della fotocamera e che vi permette di impostare molte 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 più funzionalità devo dire che funziona molto bene ammetto che per il mio utilizzo è fin troppo cioè io ce l'ho ma il più delle volte utilizzo la fotocamera normale il programma della fotocamera normale perché questo è fin troppo e anche diciamoci la verità un pochino complicato se siete dei professionisti delle professioniste o se desiderate diventarlo probabilmente fa per voi per registrare un un reel un tiktok una cosa in semplicità di sicuro è fin troppo questi erano quindi tutti i software che possiamo utilizzare per registrare video ma adesso andiamo a vedere quelli che possiamo usare per montare i video e prima di andare a vedere quali sono i software per il montaggio video vi segnalo che io ho già fatto un video sui software di montaggio video magari ve lo linko anche questo nella descrizione di questo video in alcuni casi alcuni dei software che vi raccontavo qua ve li ripeterò nel video che state guardando ma se volete un approfondimento volete qualche alternativa volete capire un pochino meglio come funziona la situazione allora andate a vedere quel video dove li spiego in maniera un pochino più approfondita in modo che possiate scegliere quello che fa maggiormente per il vostro caso e allora prima di tutto per montare video dovete sapere che sia su mac che su windows ci sono degli strumenti già pronti già installati e assolutamente gratuiti nel caso di apple abbiamo i movie che va benissimo per la stragrande maggioranza degli utilizzi per cui ancora una volta siete le prime armi avete appena cominciato prendete via i movie utilizzate questo e sicuramente non rimarrete delusi o deluse mentre su windows non so chi si ricorda il vecchio windows movie maker che purtroppo non è più presente nel dispositivo windows bene gli dispositivi più recenti credo che sia soprattutto su windows 11 troviamo clip champ che un altro strumento sempre di microsoft sempre integrato con windows gratuito che ci permette di fare video di montare video dico la verità io non l'ho ancora provato intenzione di farlo vi farò anche un tutorial sicuramente su questo strumento ma suppongo che sia assolutamente facile da utilizzare per cui valutate casomai di utilizzare i movie se avete un mac oppure clip champ se avete windows se invece se invece state cercando qualcosa di un pochino più elaborato beh probabilmente la vostra scelta sarà da vinci resolve da vinci resolve anche su questo trovate il mio il mio tutorial come vedete una guida completa un corso completo da vinci resolve probabilmente uno degli strumenti per fare montaggio video più professionali e più avanzati che abbiamo a disposizione ed è anche completamente gratuito quindi davvero meglio di così non potete desiderare l'unico svantaggio che potrebbe avere da vinci resolve è che un pochino più complesso da utilizzare rispetto ad i movie a clip champ o ad alcune delle alternative che vedrete dopo e richiede anche un computer con delle buone prestazioni quindi se avete un computer moderno e avete voglia di smanettare un po beh meglio di da vinci resolve non potete trovare poi nel video che vi ho linkato già nella descrizione quello sul montaggio trovate anche le alternative a da vinci resolve quindi questa è la prima scelta seconda scelta che vi propongo film ora del quale vi ho già parlato in precedenza in questo video sottolineo che film ora è un ottimo software per fare montaggio video a un costo che però è ragionevole parliamo di alcune decine di euro che si pagano una volta sola e insomma secondo me potrebbe essere una buona scelta se volete uno strumento un pochino più semplice da usare e un pochino più leggero rispetto a da vinci resolve per quanto non così tanto potente come da vinci l'ultima scelta che vi propongo è shotcut anche di questo trovate il mio corso completo shotcut è completamente gratuito e open source e anche piuttosto potente non è potente come gli strumenti che abbiamo visto prima però per essere gratis e molto leggero qual è potrebbe essere la vostra scelta se avete un computer un po vecchiotto per esempio e non volete particolare particolari sbattimenti insomma se volete una cosa che funzioni in semplicità allora shotcut potrebbe essere la scelta che fa per voi di tutti questi strumenti trovate la mia guida completa basta cercare su youtube per esempio da vinci resolve andrea ciraulo e trovate il corso completo così almeno ve li potete guardare prima di decidere se effettivamente preferite uno piuttosto che l'altro questi erano quindi gli strumenti per montare video sul computer andiamo a chiudere con gli strumenti per montare video sul telefono e beh quando si parla di montare video sullo smartphone non posso che rimandarvi al mio instagram dove c'è questo post che raccoglie quelle che sono ad oggi le quattro applicazioni più note e più utilizzate per fare questa cosa qua sul telefono funzionano tutte e quattro molto bene andate sul profilo instagram ciraulone se volete andare a salvarvi magari la il riassunto insomma delle quattro applicazioni così che le possiate provare tutte e quattro e vedere qual è quella che fa più al caso vostro tutte e quattro hanno quantomeno una versione di prova gratuita quindi fate in tempo a provarle alcune poi hanno una versione a pagamento altre invece funzionano molto bene anche gratuitamente le quattro applicazioni sono quelle che vi suggerisco sono in shot che è sicuramente quella più nota per fare video anche quella per cui trovate più tutorial in giro su internet su youtube su google semplicemente poi abbiamo vl lo vl lo che è un pochino più preciso se vogliamo trovargli una caratteristica che lo differenzia abbiamo cap cat che è quello probabilmente con la versione gratuita più completa che vi permette di essere usato senza spendere un soldo e poi abbiamo kinemaster che è quello un pochino più professionale dalle maggiori funzionalità anche in questo caso non è detto che vi servano tutte queste funzionalità quindi fate la prova e valutate qual è quello che fa più al caso vostro e poi anche in questo caso suggerivo filmic pro del quale però abbiamo già parlato nel capitolo precedente due capitoli fa per essere più precisi per le registrazioni andate a cercare questo post nel mio profilo di instagram ciraolone e chiedo scusa e con questo abbiamo chiuso anche con gli strumenti per effettuare il montaggio dei video sul telefono ed eccoci abbiamo scoperto tutto ma veramente tutto quello che vi serve per fare video abbiamo visto l'attrezzatura sia video che audio le luci abbiamo anche sbirciato il mio studio abbiamo guardato i programmi per registrare poi per montare video insomma che cosa volete di più dalla vita beh se volete migliorare ulteriormente la vostra comunicazione digitale potete farlo su ciraolo.me dove trovate le risorse gratuite i corsi coaching le consulenze insomma fatevi un giro che è tutto raccolto da quelle parti per quanto riguarda voi se ci sono delle cose interessanti che volete raccontarmi fatelo nei commenti rispetto a fare video se ci sono degli strumenti che utilizzate dei software che potrei non conoscere mi raccomando raccontatemeli così che arriva dopo di voi prende ulteriore valore da questo video grazie anche ai vostri commenti io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao